Altro giro, altra storia, altre foglie e quindi altro motivo vintage anni 80 questa volta facciamo le foglie intrecciate e anche questo è un motivo che sta spopolando nel web e quindi prima che qualcuno dica me lo sono inventato io eccetera eccetera non so può darsi che qualcuno già lo vada dicendo l'ho inventato, l'ho fatto, vabbè l'ho trovato in un prontuario degli anni 80 il motivo era comunissimo in quel tempo perché in quel tempo vabbè in quegli anni come se fosse l'epoca degli antichi egizi era popolarissimo infatti ho visto anche c'erano realizzate delle cose cuscini, copertine e poi c'era anche mi pare un maglione però vabbè quello era un po' strano non va bene per oggi credo proprio no ok quindi pertanto c'era il motivo delle foglie intrecciate non è quindi un'invenzione di oggi quindi ciao copyright, ciao a tutti perché esiste da ormai più di 35 anni quanti sono? erano 82 mi sembrava, vabbè 36 anni in quel prontuario che ho trovato io perché qui a casa? perché è possibile che poi costava 8.900 lire quindi credo molto rispetto a quello che c'è dentro occhio croce una stima 30 euro oggi credo eh però non lo so ma mi è sembrato abbastanza insomma per un libriccino ok e va bene dicevo anni 80 perché qui a casa mia c'è è una diciamo biblioteca tra virgolette di queste cose che parte dagli anni 70 in poi io adesso non lo so è possibile che questo disegno sia stato creato prima addirittura negli anni 60 se non negli anni 50 non lo so o c'era già da prima io non dico che l'ho inventato io e per quanto riguarda gli altri continuino a dire quello che vogliono tanto poi la figura ce la fanno loro ok perfetto allora tralci no tralci il tralcio era quello dell'altra volta queste sono foglie intrecciate è ancora più semplice dell'altro secondo me come motivo sì veramente è adatto per sciarpe, stole, coperte, copertine e cuscini molto molto adatto iniziamo subito perché veramente dicevo come dicevo è semplice e ci impariamo anche un sacco di cose come sempre ferri a caso lana a caso per imparare le cose perché è chiaro un campione se dovete realizzarci qualcosa cioè se già avete in mente ad esempio voglio farci una copertina utilizzate già il materiale anche per il campione è chiaro della copertina così avete nello stesso tempo il riferimento di quante maglie poi dovrete mettere vedrete quanto viene grande il campione quindi poi potrete moltiplicare se invece non volete magari rovinare la lana è tutto il cotone quello che volete utilizzare e proprio volete soltanto imparare il punto adesso cimentarvi un attimo i primi 20 giri e prendete anche voi qualcosa a caso che avete in giro che avete come avanzo così poi che ne so magari lo lasciate lì per dire ho imparato questa cosa e che ne so magari per ricordarvi in seguito che volevate farci un determinato oggetto ciao 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 ciao